A Piacenza, in occasione del disinnesco della bomba d'aereo rinvenuta alla Cavallerizza, nel 2008 furono evacuati 6.700 cittadini. Domenica 1 marzo, gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza saranno impegnati alla stazione di Avenza, nel comune di Carrara, per il disinnesco di una bomba da 500 libre, 250 chili circa. Per consentire le operazioni dei militari, 17.000 persone verranno allontanate dall'area interessata. La bomba è stata trovata durante i lavori per la messa in sicurezza degli argini del torrente Carrione. Le operazioni prevedono nella prima fase la rimozione della spoletta per consentire il trasporto dell'ordigno nella cava del comune di Aulla, dove avverrà la distruzione. Domenica è previsto il blocco del traffico ferroviario sulla linea La Spezia-Pisa dalle 11.10 e la sospensione della circolazione autostradale sulla A12 nel tratto tra Carrara e Massa dalle 11 fino alla conclusione delle operazioni di despolettamento. È inoltre prevista la sospensione della circolazione stradale sul tratto della statale Aurelia nei pressi dell'area del pericolo. Nel 2014 gli specialisti dell'esercito del secondo genio pontieri di Piacenza hanno portato a termine 164 interventi di bonifica che hanno permesso di disinnescare oltre 220 ordigni, tra questi 130 tra bombe a mano da mortaio e da fucile ed oltre 50 granate.